ciao bimbi e bentornati ad un nuovo video di gioca con me gioca per bambini oggi voglio mostrarvi un altro gioco davvero davvero inusuale oserei dire ossia un nuovo altegamino fatto di slime l'avevate mai visto io no è la primissima volta che lo vedo e sono davvero anche curiosissima di sapere insomma di vedere che consistenza mi raccomando perché essendo fatto di slime non è commestibile punto primo e poi i bambini sotto i tre anni non possono utilizzarlo per cui fate moltissima attenzione però adesso bando alle ciance e andiamo subito a scartare questo bellissimo pacchettino per vedere un po questo uovo eccolo qui oh mamma non si stacca neanche come potete vedere anche diciamo un pochino appiccicoso e poi guardate si può anche estendere la parte all'interno sembra davvero davvero non so come dire molto molto placidina è davvero davvero stranissimo e poi è anche super lucido possiamo anche allungarlo e davvero farci quello che vogliamo insomma un gioco davvero davvero un po stranino voi l'avete mai visto se ce l'avete a casa cosa vi piace insomma perché perché l'avete preso scrivetemi tutto nei commenti io nel frattempo continuo a giocare con questo bellissimo ovetto al tegamino anche perché la parte centrale è davvero gelatinosa rispetto alla alla parte bianca insomma il cuorlo è davvero davvero diverso oh mamma non si stacca neanche più aiuto 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 no in effetti è un gioco davvero davvero carino un po inusuale ecco non di quelli che vi mostro come al solito però ogni tanto è anche bello cambiare no voi magari scrivete sentimi nei commenti cosa potrei fare con questo stranissimo ma davvero divertentissimo ovetto al tegamino insomma lo possiamo stropicciare come vogliamo che poi torna alla sua forma normale ecco qui adesso lo richiudiamo facciamo una sorta di saccottino e poi ritorna davvero davvero come adesso vi faccio un attimo vedere più da vicino il tuorlo ecco qui vedete è davvero davvero gelatinoso ed è la parte che mi piace di più di questo uovo e poi davvero ci si può giocare e sbizzarrirci a sbizzarrirsi a più non posso secondo me ovviamente poi scrivetemi nei commenti se questa idea vi piace o se magari preferite i giochini un pochino un pochino più classici ecco però la parte bella è che è anche super elastico vedete possiamo distenderlo come vogliamo che non si rompe facendo ovviamente sempre attenzione a non diciamo estenderlo troppo però devo dire che è un'idea abbastanza originale e carina di vedere una sorta di slime la slime così io non l'avevo mai visto una sorta di glibi anche possiamo intendere insomma se vi è piaciuto il video ovviamente lasciatemi un mi piace e scrivetemi soprattutto attendo vostri commenti su questo bellissimo vetto al tegamino e come potrei utilizzarlo insomma non dimenticatevi di abbonarvi al nostro canale per rimanere sempre sintonizzati con noi scoprire nuovi video e ci vediamo sempre qui la prossima volta su gioca con me gioca per bambini ciao